Ciao, una mattina prendo la mia pagina facebook ho trovato per caso la pubblicità di questo videocorso. Mi sono fidata perché mi ha ispirato subito fiducia e non ho pensato due volte ad acquistare il videocorso. Sono soddisfatta, il mio percorso è molto gradevole e positivo e la situazione con la mia cucciola Olivia prima di questo era un disastro, un disastro assoluto. Ora invece ci sono stati dei grossi miglioramenti ad esempio non morsica più, non tira più i vestiti e non salta più addosso alle persone, sono molto soddisfatta e le spiegazioni sono veramente semplici e chiare quindi perfetto per me e sì lo consiglierei se dovesse capitarmi qualcuno che mi chiede consiglio sicuramente consiglierei questo percorso. Ciao, grazie!